Scusami, allora, devi sapere, c'era il pallino rosso un tempo, il pallino rosso non c'è più, perché lui ha tolto l'applicazione? No, ti prego, c'era il pallino rosso, in tutte le telecamere, c'è il pallino rosso del rec, cioè quando... Per non far vedere agli altri che stanno registrando, ha tolto il pallino rosso, quindi l'ho presa io in c***o, questa la tagli? No, questa non la tagli, questa è Mirea, ascoltatela Dai, così mi fate... no, vai Fammi così, non ti vedo Io già sono partito da una vidra Ma sai, è cominciato il concerto Allora, vai, e allora qui al concerto degli Up Treeside, chi ti incontriamo? Diego Laurenti, youtuber Un'altra volta io, voglio, scusatemi, mi sono trovato a passare, ho aperto questo concerto e c'era pure Mirea, purtroppo Eh, ma hai aperto questo concerto, grande responsabilità però, un bellissimo inizio Bello, bello, a parte che gli Up sono degli amici, io li voglio tanto bene, meritano tantissimo Sono ragazzi napoletani che fanno un tipo di musica che a Napoli si sente poco, ma andrebbe sentita un po' in più, insomma E quindi mi ha fatto tantissimo piacere aprire il concerto Ho partecipato a X Factor, giusto? Sì, sì Mamma mia Ebbè, ma il successo può dare alla testa? Ma non penso che sia il loro caso, almeno per come li conosco Eh, ma, non pensi A te il successo ha dato alla testa? Ma a me io non ho nessun successo, quindi la testa Vedete, vedete, il successo dà alla testa, quando uno diventa troppo famoso, non ammette di essere famoso È giusto, è il mio caso, è il mio caso, non penso Il successo può dare alla testa, però se parti con i piedi di piombo, sapendo che stai costruendo tutto da solo Io penso che dà alla testa al momento in cui sai che già stai arrivando là, quindi sei un raccomandato E di conseguenza fai, eh, ciao, sono il migliore Adesso non sei raccomandato? Te lo devi costruire da solo e non ti va alla testa Per niente, infatti perché te lo sudi? Sì, 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 di cervelli più che altro per cercare di arrivare sempre più in alto E invece il tuo canale, YouTuber Diego, parliamo ancora del tuo canale Gli ultimi video e i video in programma? Gli ultimi video, cioè un nuovo video commento che sta per venire fuori Sono altri video che stanno continuando a crescere fortunatamente Continuerò con i video commenti e vedremo di tirare fuori qualche altra tipologia di video particolare Però non anticipo niente Non anticipiamo, non anticipiamo Salutiamo i nostri amici, però facciamo un freestyle, dai Sì, salutiamo Dai, saluto Ciao aiuto, parto con freestyle, come party part tuno Saluto rossa, frate ma fiesta tv Woooo